La manifestazione è una location molto positiva, è l'unica location veramente bella che abbiamo in Italia ed è una fiera dedicata all'IEND, per cui questo è un punto molto positivo di questa fiera. Gli organizzatori sono molto attenti a cercare di sviluppare con progetti correlati anche la quantità di gente, le persone che possono venire alla fiera, ovviamente non sono mai abbastanza, però si spera che anno per anno ci sia un incremento sempre maggiore. Noi abbiamo portato in presentazione un marchio che abbiamo acquisito da poco che è Stenaim Audio, che si vede qui alle spalle, che è un marchio svizzero di qualità molto molto alta, il proprietario viene da un'esperienza con Nagra e poi ha preso e sta facendo crescere questo marchio e sta facendo un grande successo in tutto il mondo e rispecchia la filosofia del WDM Sound Group, che è un gruppo che si occupa di i-end e di audio professionale, quindi tutto quello che distribuiamo cerca di essere un punto d'incontro tra quello che è il suono del materiale registrato e quello che è il suono di un amato, diciamo, da un appassionato di hi-fi e credo che i marchi che abbiamo vanno in questa direzione. Stenaim si sposa molto bene con questa nostra filosofia pur rimanendo un marchio di alta gamma, con un suono elegante, però rimane sempre trasparente, non colorato e dinamico, così che il nostro punto proprio fermo è che proponiamo tutti i marchi che abbiano un suono trasparente, dinamico e non colorato. Contestualmente presentiamo poi anche il sistema top di Mergic Technologies che è il NADAC trio, per cui NADAC player più l'alimentazione dedicata, più NADAC power, più NADAC clock, il clock top di gamma che è stato un progetto di tre anni di NADAC con soluzioni tecnologiche molto avanzate che servono sia in situazioni in contesti professionali per cui si possono connettere sia via rete sia fisicamente più macchine contemporaneamente allo stesso clock, che è un cristallo di altissima qualità, di qualità quasi folle, perché sono gli stessi tipi di clock che si usano su trasmissioni in radiofrequenza satellitari e quindi è un progetto un po' molto ambizioso e particolare. In ambito professionale riesce a mettere in clock molte macchine all'interno di un auditorium di una struttura complessa come un teatro o delle sale da concerto. In ambito audiofilo può mettere in connessione, può mettere in clock il NADAC e altre macchine che possono necessitare di un clock come delle meccaniche con il clock esterno o similari, per cui si si sposa molto bene anch'esso con la nostra filosofia, avendo poi i merging anche i professionali. Ci saranno altri eventi che stiamo organizzando in giro per l'Italia, al momento non sono previste altre fiere, faremo la presentazione a Roma con degli open day il 23-24 novembre e poi a Milano 5-6 dicembre stiamo organizzando invece un evento un po' particolare che mette, che è come un vernissage che mette in correlazione fotografia, cioè una mostra fotografica e la presentazione di Stenheim in uno studio fotografico di Milano molto bello dove ci sono tre sale dove faremo esposizione, aperitivo e ascolto della musica, però insomma sarà un po' una festa con musica, modelle, esposizione fotografica e impianti hi-fi di alto livello. Grazie a voi, grazie.